E' oggi la giornata del mare, quindi partiamo dal simbolo, questo delfino che porta questo ragazzo, questo bambino verso il cuore, quindi dobbiamo coniugare tutto questo percorso perché è questo quello che noi vogliamo rappresentare. Insieme al Ministero dell'Istruzione abbiamo offerto la nostra disponibilità proprio perché essendo presenti su 288 uffici siamo molto vicini alle realtà locali, quindi il connubio con le realtà locali è principalmente con i ragazzi e con le scuole. E questo è il messaggio che voglio dare ai ragazzi e alle ragazze che oggi sono qui con noi, guardate a questo mare come il vostro futuro. Sono contenta di poter ammirare anche i lavori fatti dai ragazzi, questi lavori sono essenziali affinché i ragazzi possano davvero riflettere e possano anche, permettetemi, conoscere meglio il mare. Grazie a questa vostra iniziativa i ragazzi hanno potuto nelle scuole fare esperienza, riflettere, approfondire e questo significa conoscere qualcuno, qualcosa come il mare e quindi amarlo, saperlo amare ancora meglio. Grazie. Bello perché tantissime immagini di voi, uomini in divisa con i ragazzi e credo che veramente sia il miglior modo per educare le nuove generazioni, stando proprio insieme a loro. Se oggi siamo qui, questo nasce da una collaborazione sempre più strutturata tra il Ministero dell'Istruzione e il Comando Generale della Guardia Costiera. Ovviamente le istituzioni sono importanti ma noi puntiamo sul coinvolgimento e la partecipazione della società civile e dei ragazzi soprattutto ma di tutte le associazioni che insieme a noi hanno un unico obiettivo che è quello di proteggere il nostro mare e il nostro ambiente. Grazie. Grazie. Grazie.